Posso chiederti maestro un piccolo, un piccolo reprise? Pezzettino? Pezzettino? Puoi cantare un attimo un pezzettino? Ritorniamo qua Proprio quando la stavo cercando Ogni volta, ogni volta quando E ogni volta Tagliata Tagliata Mi prende Tapa Uhhh 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 Hai visto la tua sorella tata? Che sorpresa che ti ha fatto! Ma che voce che hai anche tu! Grazie! Ma è una cosa di famiglia! Siete solo voi due c'è qualcun altro! No vabbè anche i miei nonni tutta una cosa... Sì ma fratelli e sorelle sono finissimi! No siamo solo noi! Che carine, vi assomigliate molto! Avete visto che bel vocione che ha! Tu hai capito subito che era lei quando l'hai sentita prima ancora di vederla? Sì perché... Ha un timbro tutto suo! Si è voltata! Lei mi ha ancora chiuso ma lei ha capito! Dalle prime note! Dai, goditi la tua sorellona! Sì! Va bene! Ciao Giorgia! Grazie! 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 Grazie!